Gli spettacoli bolognesi passano a 4 A soli due giorno dalla notizia di una data in più a Bologna, Roger Waters annuncia che suonerà per quattro sere alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno Le date italiane della tournée Usputem diventano così 6, di cui 4 nella sola città emiliana Prime date già sold out. E così Roger Waters sarà in Italia il 17 e 18 aprile 2018 al Mediolanum Forum di Assago, MI, e il 21, 22, 24 e 25 aprile a Bologna, esattamente alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno I biglietti per le prime due date bolognesi sono andati esauriti dopo poche ore dalla messa in vendita, e così lo staff dell'ex Pink Floyd aveva deciso di aggiungere la data del 22 aprile agli show, per consentire ai fan rimasti a bocca asciutta di assistere al concerto del musicista E adesso l'annuncio di una quarta tappa, per la gioia di quanti non fossero riusciti a prendere i biglietti per le altre date Anche per lo show del 25 aprile l'Unipol Arena avrà la configurazione con parterre in piedi, come per le date del 21 e 22, l'unica sera in cui ci sarà un parterre numerato sarà quella del 24 aprile Non sono mancate le proteste di chi aveva fatto i salti mortali per accaparrarsi i biglietti per una delle due date e adesso si è visto spuntare altri due concerti Tra l'altro, siccome il 25 aprile è giorno di festa in Italia, non è da escludere che tanti avrebbero preferito comprare il biglietto per quella data Roger Waters porterà sul palco i più grandi successi dei Pink Floyd e i brani tratti dal suo ultimo album Ististe e Life Vere Alli Vant I prezzi dei biglietti. La società che si occupa della promozione dei live di Waters, la d'Alessandro I Galli, ha diramato tutte le info sull'acquisto dei biglietti, disponibili attraverso il circuito Ticchettone I prezzi per i concerti di Bologna differiscono a seconda delle date, visto che la Unipol Arena verrà allestita con due diverse configurazioni, il 21, 22 e 25 aprile si potrà stare in piedi nel parterre, mentre il 24 nel parterre ci saranno posti a sedere numerati Di seguito i prezzi, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita ed eventuali commissioni Serate del 21, 22 e 25 aprile, Pitarea in piedi 75 euro, parterri in piedi 60 euro, tribuna numerata 1 grado settore 90 euro, tribuna numerata 2 grado settore 78 euro, tribuna numerata 3 grado settore 69 euro Per i concerti del 17 e 18 aprile al Mediolanum Forum di Assaccio Invece, i prezzi sono i seguenti, platea gold e tribuna numerata 1 grado settore 130 euro, platea numerata e tribuna numerata 2 grado settore 100 euro, tribuna numerata 3 grado settore 69 euro, anello B visibilità ridotta 85 euro, anello C visibilità ridotta 60 euro, anche in questo caso, ai prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita e le commissioni Grazie 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 Ciao